Ecco come una bella canzone dal nostro repertorio. Mario, fa attenzione a come parli. Tuo padre da quando è stato ferito alla gamba non è più militare. E anche se non vede a vedere ne soffre, capito? Siete stati fortunati, ho giocato a carte tutta la notte e ho vinto un sacco di soldi. Balliamo. Dai. Mario, tu puoi restare, ma loro due devono andare via. Se se ne vanno loro me ne vado anch'io. E da quando è che sei diventato così testardo tu? Da quando? L'ha preso da suo padre. Ah, un combattente. Un combattente lui. Va bene, non puoi restare, ma domani ti mandiamo a tagliare i capelli, perché qui dentro i selvaggi non entrano, va bene? Mangia.